Dieci anni di serie regolare, dieci anni però mascherati e una festa che non arriva. Bentornati cari lettori, come state? Spero tutto bene, io sono Luca DJ, questo è Storia dell'altra vita, a cui parliamo di fumetti, di cose nerd e se venite più vicino parliamo di una cosa spinosissima, perché io sono mesi, mesi, dall'ultima volta che li ho sentiti, gli autori e il curatore di Drago Nero, quindi Enoch, Vietti e Barbieri, gli dissi, ma l'anno prossimo, perché si parla dell'anno scorso, l'anno prossimo saranno dieci anni a giugno, che fate? Lui mi disse, no, non ci avevamo riflettuto, però effettivamente è solo che ho sentito anche, ho visto anche all'ARF Michele Masiero, in occasione dell'intervento di Barbara Baraldi per la prima uscita come curatrice di Landog, eccetera, eccetera, e anche lui si è trincerato dietro a un no comment completo. Però effettivamente, se vai a vedere il numero che andiamo a vedere oggi di Drago Nero, che è Mondo Scuro numero 7, numero 7, beh, questo è il centoventesimo numero di Drago Nero nella sua totalità, quindi serie classica, il Ribelle e adesso Mondo Scuro, il numero 120, cioè dieci anni di Drago Nero. Dieci anni di Drago Nero che vengono festeggiati con, cioè dieci anni di Drago Nero che non vengono festeggiati, ma vengono festeggiati 75 anni di Tex con la mini copertina che non c'ho più qua, ma non me ne frega nulla, la mini copertina è una di quelle cose che proprio non ha senso di esistere, capirete perché sto simpatico a Masiero, però sta cosa mi ha lasciato sempre, mi lascia perplesso, non riesco a capire per quale motivo non festeggiare il numero 100 con il classico numero a colori, anche se non è nella numerazione di Costina, quello lì comunque rimane un numero 100, e questo lo dissi 20 numeri fa. Non capisco perché in questo giugno non festeggiare i dieci anni della serie regolare, è vero che il balenottero, cioè il romanzo a fumetti, è uscito nel 2007, ma è pur vero che le serie regolari si festeggiano per serie regolari, non da quando il personaggio è uscito la prima volta nel mondo, cioè questo è il numero 120, c'è scritto chiaramente, e quindi è il numero, sta scritto qui, è il numero dei dieci anni. Numero 120, numero 7 del Mondo Scuro, sfida nella città perdura di Luna, Luca Enoch e Fabrizio De Fabrizis. Mi fa piacere ultimamente parlare con voi dei disegnatori o degli autori per qualcos'altro che hanno fatto, per esempio, il fumettista esplosivo De Fabrizis è per me caro, perché oltre ad aver fatto i Guardiani Italiani, anche fatto questa cosa qui insieme ad Andrea Guglielmino, da un soggetto di Andrea, un soggetto di una sceneggiatura di Andrea Guglielmino, Garibaldi vs. Zombie, e sa ovviamente il fatto su, un bel fumetto questo qua, se vi va di recuperarlo e lo trovate, non so se è esaurito, lo potete recuperare, calcolate che sta per uscire il prequel di questo, cioè Garibaldi vs. Frankenstein. Due fumetti, ovviamente, trash, ma quel trash bello che ti fa fare un sacco di risate. Tornando a noi, tornando a noi, ah, dovevo ovviamente ringraziare, anche in questo video, perché vanno ringraziati, perché sono veramente dei pionieri di questa cosa, i due abbonati, i due lettori che hanno deciso di abbonarsi al canale, che sono Flip80full e Manuel Bracchi. Grazie, veramente, di aver preso questa decisione. Chi volesse, qua sotto c'è il link per abbonarsi, proprio in descrizione. E ci sono tante cose belle e quotidiano, oltre alla mia gratitudine perpetua, finché siete abbonati, poi no, ovviamente, scherzo. Dragonero Mondoscuro, sfida in una città perduta, copertina di Pagliarani, bella copertina con i colori di Francescutto, come sempre, che va un po' a svelare quello che succederà. Troveremo degli abomini alati, troveremo uno, Ian, su una barca, che si sbilancia, perché la sevaccia, che adesso non si chiama più così, è troppo pesante, quindi lo fa sbilanciare, e magari si fa anche un bel bar, non lo so, non lo so. In realtà nelle copertine vengono messi alcuni elementi, e poi casomai questa scena non è mai avvenuta all'interno del numero. Un numero interessante, perché ci fa vedere un altro aspetto di quello che succede nell'Earondar di quest'epoca, di questo momento, del mondo oscuro, e cioè che oltre agli eroi, quelli che militarmente ammazzano, uccidono e fanno casino, ci sono anche altri eroi, quelli che tengono su i campi. Una di queste è proprio lei, che è una... come si chiama? Lei andrà alla... aspettate... già non ti manderanno... calina. Sì, lei praticamente andrà al... al... come si chiama? Annaggia, guarda, ancora non mi riesco a capire come si chiamano. Quelle... alla Nurrachava, il buco che si è aperto, dove c'è appunto, dove c'è... Drago Nero. questa cosa sarà importante perché il legame tra questi due fratelli, tra sorella e fratello, sarà importante per l'avvolgimento della trama. Trama che vedrà una svolta ancora più importante perché darà un'informazione particolare su come gli abomini si riproducono e sarà una cosa decisamente brutta, brutta da vedersi, decisamente particolare. Ragazzi, un bel numero, un numero che scorre, un numero che io ho trovato interessante da leggere, in cui i rapporti tra i vari personaggi si fanno un po' più tesi, un po' più tesi. Torniamo a vedere Gmorr impegnato insieme a Yan nel mondo, nell'Eronar, non nel mondo degli Orchi, nel numero precedente appunto li abbiamo visti impegnati ancora all'interno dell'isola degli Orchi e... però la cosa principale appunto sarà questa cosa qua che vi ho detto, questo fatto che gli abomini si riescono a riprodurre in un modo particolarmente brutto. Poi lo vedrete perché non voglio farvi spoiler da questo punto di vista. Disegni molto belli, tavole molto belle, De Fabrizio penso che se verrà acquisito come disegnatore, come artista della serie regolare è un bel acquisto, ci sta tantissimo. è interessante capire appunto, era interessante capire come avrebbe interpretato un mondo fantasy, un disegnatore che ha disegnato fino adesso soprattutto di supereroi, i guardiani italiani, ma anche Caribaldi versus Frankenstein e molto comics e come si sarebbe approcciato a Dragonero non avendo neanche il supporto del colore e si è approcciato un gran bene. Devo dire, veramente, veramente bravo. Vi sto facendo vedere solo le prime tavole appunto per non spoilerarvi più di tanto. Il prossimo numero, senza spoilerarvi nulla, è colui che dorme negli abissi e sembra una sorta di drago. Alla fine ci sono, c'è la pubblicità della collana appunto delle monografiche, per così dire, che in realtà non sono storie, sono storie monografiche soltanto perché vedono un protagonista unico, ma non sono monografiche appunto che parlano approfonditamente del personaggio perché non lo fanno. Niente, 4,90 come è il nuovo prezzo dei Bonellidi, un numero che mi ha soddisfatto appieno nella lettura, una lettura veloce, una bella lettura e io vi consiglio appunto di leggerlo. Ovviamente, ovviamente non è un numero che può essere letto a sé stante, nel senso non avete mai letto Drago Nero, non potete partire assolutamente da qui e è un numero che, come nel numero precedente, è un numero seminale, è un numero importante, è un numero che soltanto per le ultime tavole, le ultime due, tre tavole, può definirsi un numero che dà un'informazione importante, poi anche per un recupero, per il cosiddetto recupero di Drago Nero, io ho fatto un video sul recupero di Drago Nero dove ci sono le storie fondamentali, anche questa qui, fondamentale per quello. Diciamo che Enoch, Vietti e Barbieri hanno decisamente imparato a dosare determinate informazioni nei vari numeri e renderli tutti quanti più o meno indispensabili. In questo mondo scuro, veramente, nei primi sette inizia a essere difficile capire il numero che non è importante perché in ognuno di questi c'è un tassello un tassello che poi sarà probabilmente sviluppato successivamente e che diventerà fondamentale per capire la chiusa di questa di questa saga di questa nuova saga di Drago Nero quindi alla fine noi faremo i conti appunto cercheremo di capire se ci saranno dei numeri che si potranno saltare in un recupero non completista ma per il momento io penso che abbiano imparato da due stagioni la prima si potrebbero saltare molte cose nella seconda già molte meno la terza i primi sette numeri va così va così d'altronde il fumetto volare costa poco e quindi ve lo recuperate tutto anche perché Drago Nero penso che si trovi anche a 1,50 adesso a volume quindi non è questo questo costo eccessivo noi ragazzi ci vediamo domani per il solito prossimo video fatemi sapere se l'avete letto se lo state portando avanti come vi sta sembrando se invece l'avete sospeso o magari alcuni mi hanno detto anche guarda ho iniziato a leggere Drago Nero grazie al tuo video del recupero perché ho recuperato un po' di numeri come ci hai detto tu e io gli ho detto vabbè adesso ti verrà voglia di fare un recupero completo probabilmente vedremo vedremo come va noi ci vediamo domani per il solito prossimo video ciao belli ciao ciao ciao